Si terrà domenica 4 novembre con inizio alle ore 20 e 30 al MOA di Eboli la messa in scena dell'opera teatrale in due atti con Michele Ferrarese dal titolo Caporetto Isteria di una nazione. Un'opera nata da un'idea di Giuseppe Fresolone con i testi dello stesso Fresolone di Luigi Nobile che ha curato anche le musiche e la regia. Il tutto prodotto da Monochrome Art e organizzato da MoArt Associazione Sofis con il patrocinio del Comune di Eboli. Grazie